Lega Brinisina è in piazza per la campagna di tesseramento e per una raccolta firme contro il ritorno dei vitalizi, tema che ha riacceso il dibattito politico negli ultimi giorni. Un'occasione di incontro con i cittadini, anche in vista del prossimo appuntamento elettorale regionale, in particolare sulle problematiche relative a questa fase di ripartenza post-Covid. La Lega è stata chiamata una raccolta di firme contro i vitalizi, ma soprattutto anche contro questo governo che riteniamo che non rappresenti quello che l'Italia in questo momento ha bisogno. Noi siamo un partito di popolo, tra la gente vogliamo stare, sperando che ci riprendiamo la regione Puglia e che possa accadere questo governo, ridare al popolo la forza di scegliere chi deve governare in base a quale idea d'Italia e siamo preoccupati per quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Oggi noi attraverso queste sottoscrizioni vogliamo dire no a questo governo giallorosso che continua a portare la nostra nazione ad una regrazione sociale ed economica, ma anche una sottoscrizione contro il ripristino dei vitalizi, una sottoscrizione anche contro la possibilità di modifica dei decreti sicurezza che vogliono anche una sanatoria per quanto riguarda i clandestini all'interno della nostra nazione. Quindi noi oggi insieme ai cittadini Brindisini ma insieme a tutti i cittadini da Puglia e mille piazze vogliamo ancora una volta dimostrare di essere nella gente e per la gente. Noi abbiamo in programma qualcosa di reale, di efficace e per stare vicino a questo momento particolare, soprattutto dopo il Covid, c'è bisogno di lavoro, la cassa integrazione non arriva, ci sono dei problemi reali e noi cerchiamo attraverso il contatto diretto con la gente di essere radicati per le prospettive future, in futuro ci saranno le prossime competizioni regionali che sono importantissime. Abbiamo bisogno dei riferimenti di Brindisi, di una persona, di un rappresentante di Brindisi che possa rappresentarci e per far ripartire un attimino l'economia della regione, di Brindisi in particolare.